La preparazione ha pagato Ma non mi disse La preparazione ha pagato Ma non mi riportarti Che voglio andare Io sento ciò di fare A me tenete me con Tenete un giorno più Grazie Diego Numero 53 Corsini-Marcello Marcello 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 c'è un cambio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.